Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Negli ultimi giorni, Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, è stata al centro di numerose notizie preoccupanti riguardanti la sua salute. Secondo vari rapporti, sembra che stia affrontando una chemioterapia preventiva che ha avuto effetti devastanti su di lei. Diverse fonti indicano che la principessa, che ha 42 anni, abbia perso oltre 15 chili, diventando quasi irriconoscibile. Recentemente, sono emerse voci dagli Stati Uniti, in particolare su Reddit e TikTok, che riportano avvistamenti di Kate Houston, in Texas. Si dice che stia ricevendo trattamenti presso l'Anderson Cancer Center, famoso per le sue cure oncologiche. Un utente ha scritto, questo fine settimana stavo visitando un amico a Houston e mi hanno detto che Kate Middleton è qui. Qualcuno sa qualcosa di più? Penso che sia qui per le sue cure. Le auguro il meglio. Kensington Palace, ha dichiarato che la storia è completamente falsa.